Durante la normale respirazione, l'aria entra nel naso, raggiunge la trachea e arriva nelle vie aeree più piccole, i bronchi. A loro volta, i bronchi si suddividono in bronchioli e poi in minuscole e delicate sacche unite in grappoli chiamati alveoli. La broncopneumopatia cronica ostruttiva, o BPCO, comprende un gruppo di disturbi che provocano una riduzione del flusso di aria ai polmoni e problemi respiratori. L'enfisema è una malattia che distrugge gli alveoli e i condotti alveolari. Poiché il polmone perde elasticità, gli alveoli si rompono e si creano ampi spazi che fanno ridurre la superficie respiratoria necessaria all'organismo per catturare l'ossigeno ed eliminare l'anidride carbonica. La bronchite è un'infiammazione del rivestimento dei condotti bronchiali. La bronchite cronica è dovuta a un'infiammazione persistente di queste vie respiratorie. Vi è una continua produzione di muco e col passare del tempo il rivestimento dei condotti bronchiali si spessisce, causando una riduzione del flusso d'aria durante la respirazione. La broncopneumopatia cronica ostruttiva è causata da 1. fumo di tabacco 2. esposizione a sostanze inquinanti presenti in casa o sul posto di lavoro 3. fattori generi 3. fattori generi